A Teramo il PUMS, il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, sta accendendo il dibattito in particolare fra i commercianti del centro storico che si sono riuniti per discutere del documento di programmazione che va a ridisegnare il sistema della mobilità e dei parcheggi. In particolare al centro della polemica ci sono alcuni elementi inseriti nel PUMS a partire dall'allargamento della ZTL e la zona a traffico limitato passando per la modalità che l'amministrazione ha usato per approdare al piano. Resta di fatto che forse questi incontri andavano fatti prima, prima ancora di stabilire le regole del PUMS e prima ancora di stabilire le sorti della città perché parliamoci chiaro, questo PUMS sicuramente cambierà un attimino il futuro della città di Teramo e soprattutto delle attività economiche e della residenzialità del centro storico di Teramo. Se non ci saranno risposte in base alle vostre richieste siete pronti anche a manifestare? Ma guardi noi già stiamo preparando una manifestazione, non è che ci aspettiamo granché da questi incontri anche perché piccoli approcci ci sono già stati e il risponso è negativo perché loro vanno avanti dritti per la loro strada e lo dimostra il fatto che sono andati dritti senza neanche interpellarci, senza neanche consultare, senza neanche capire quali sono le nostre necessità, quali sono le nostre problematiche, qual è la nostra visione per il centro storico di Teramo. L'estensione della zona traffico limitato non è giustificata per i commercianti in alcun modo dalla situazione attuale ma soprattutto non è stata oggetto di confronto con i portatori di interesse. Penso che davvero questa città è arrivata al limite di quella che può essere la vivibilità sia sotto l'aspetto sociale e anche commerciale. Voi i commercianti non siete stati interpellati prima nella redazione di questo piano? E infatti proprio per questo motivo che diciamo che siamo tornati indietro di molti anni perché alla stessa maniera di 25 anni fa fu presentato questo put. In questa nuova situazione certamente ci sono delle cose che devono essere assolutamente viste e riconsiderate e giustamente ci pareva, come dicevi tu, il caso che certe cose devono essere concordate prima.